Il cantiere è ancora lì da quasi tre anni, così come la rabbia dei residenti, che però è in crescita. Per rintuzzare le polemiche riprese dal Movimento 5 Stelle sul ritardo dei lavori di adeguamento sismico delle palzine di via Pescara, il presidente dell'Ater di Chieti, Antonio Tavani, consegna i ritardi alle responsabilità altrui, la ditta, le materie prime molto costose, il personale insufficiente. Tuttavia, aggiunge, l'intervento terminerà comunque entro tre mesi. Tavani rincara la dose accusando di lentezza il comune di Chieti e lo fa davanti all'assessore Stella, presente, che restituisce l'accusa al mittente. Credo che la polemica che sta montando in questi giorni sia poco giustificata e giustificabile dal punto di vista politico, perché non c'è nessun serio rallentamento dei lavori, se non quello dovuto a tre grandi problemi che oggi attanagliano tutti i cantieri italiani, cioè i prezzi che sono andati alle stelle, la scarsità di personale tecnico, che purtroppo è un dato di fatto, non solo nel comparto edilizio ma in tutti i comparti, e poi la scarsità anche della disponibilità dei materiali. Sono tutte cose che stanno rallentando il nostro cantiere Sisma 2009, che comunque noi ci impegniamo a completare entro 90 giorni, ma che non hanno nessuna attinenza, con invece le iniziative sul 110 che rimangono, ripeto, una grande opportunità, che però non è, ripeto, nella disponibilità, nella determinazione dell'Ater, ma è invece una volontà del supercondominio, che peraltro qua mi risulta già essere stato formato. Poi sulle polemiche, insomma, vorrei ricordare agli amici 5 Stelle, che governano in comune, che il Sisma 2009 passa anche attraverso il lavoro degli uffici del comune di Chieti, e questa ditta ha preso tre stati di avanzamento, tutte e tre dall'Ater, e ancora ne prende uno da parte del comune di Chieti. I momenti di tensione ci sono e i cittadini, dal canto loro, restano infuriati e insoddisfatti. Non possono neanche aprire le finestre in estate e, se anche potessero, quello che si troverebbero davanti sarebbero impalcature e reti di protezione sbrindellate.